Ci sono numerosi insegnamenti in questo racconto molto articolato di una doppia guarigione, o meglio di una guarigione e di una resurrezione, che fra l'altro fa seguito a un esorcismo nella terra dei Geraseni, un esorcismo veramente spettacolare per tutto quello che accade, i porci che cadono in acqua, migliaia di animali che impazziscono appena Gesù dice vi concedo agli spiriti impuri di entrare in quei maiali, eccetera. Visivamente quindi si vede la forza dello spirito impuro che era concentrato dentro una legione, dentro quell'uomo e viene liberato. Da lì parte, con la barca si reca nell'altra riva, non quella opposta, di un altro lato, che è quello di Cafarno, e qui accade questa storia complessa, perché Gairo, che è amico di Gesù, molto favorevole a lui, lo accoglie e lo accoglieva nella sua sinagoga per parlare e insegnare, va da lui per fargli guarire la figlia gravemente ammalata. La figlia muore durante il tresito, diciamo così, dalla barca alla città fino alla casa del sinagogo. Intanto c'è la guarigione di questa donna che avviene in un modo particolare, di nascosto. Tocco il mantello e io sarò guarita. E qui gli insegnamenti sono tanti. Il primo assoluto è quello della fede. Alla donna dice Figlia, la tua fede ti ha salvata, si guarita. E al sinagogo, Gairo, dice Abbi fede. Io vengo nella tua casa e la faccio risorgere. Abbi fede. Solo abbi fede. Intorno di fede ce n'era pochissima. Tutta quella gente che stava intorno a lui e a loro non credeva. Una grande folla attaccata a Gesù per curiosità, per l'evento, a vederlo a spettacolo. Tutti toccano Gesù, ma solamente una donna viene guarita e l'energia, la forza che esce da Gesù, passa solamente per lei. E lui se ne accorge. Pur non vedendo, perché da dietro tocca il mantello, perché non passa in tutti gli altri. E perché caccia via tutti quanti quando giunge lì dicendo dorme, tutti lo deridono, come dire è morta veramente. È un po' una sfida, come dire dorme oppure è morta. Lo deridono. Questo è dunque l'atteggiamento della gente che sta intorno a Gesù e spesso noi possiamo chiedersi e farsi la domanda ma se incontrassi Gesù di persona, se fosse vissuto a quel momento, a quell'epoca o lo incontrassi adesso, camminasse qui fra noi come un tempo quale sarebbe il mio comportamento? Mi convertirei, lo ascolterei, lo seguirei, andrei per fatti miei, andrei per curiosità andrei per chiedere un favore, un miracolo e poi vado per la mia strada la maggior parte di quella gente faceva così. Quindi il contatto con Gesù non scatta, non fa scattare il miracolo neanche fa scattare la salvezza interiore dell'anima. Sono due le dimensioni che vengono toccate. Come Dio è tutto intero presente in Gesù, nella sua persona umana così pure gli uomini hanno un corpo che può essere ammalato ma più di tutto è ammalata l'anima perché non ha lo spirito di Dio ma ha lo spirito di peccato, è uno spirito morto quindi sono morti nello spirito. Il contatto con la materia del Dio che si fa uomo il contatto del nostro corpo con Dio non fa succedere nulla se dentro alla volontà dell'uomo non c'è un atteggiamento di fede e di amore verso il Cristo. Fede non è quella che si contrappone a quello che fa fatica a credere anche Pietro fa fatica a credere Signore io credo ma aumenta la mia fede. Non parliamo di quelli che fanno fatica a credere perché sono dentro tanti lacci e culturali, intellettuali o che altro. L'atteggiamento contrario è quello irridente, quello che è superficiale quello che non è interessato alla salvezza dell'anima è solo materiale. Stanno dunque a contatto con Gesù che è il sacramento che vuol dire la salvezza di Dio che passa attraverso la materia la trasforma e la santifica, la materia del suo corpo ma non vengono toccati nell'anima. Sarebbero guariti se ci fosse stata la fede sarebbero guariti nell'anima e nel corpo. Come può un'anima morta dire perché l'anima morta continua a esistere e senza la vita di Dio e vive nel buio, nell'ignoranza ma continua a vivere è così come continua a vivere all'inferno. Un'anima che si converte a Dio è quell'anima che sa rispondere al profondo della voce di Dio che chiama nell'anima e allora Dio entra e la vivifica ma per farla entrare Dio vuole che si attuole ad aprire la porta. La fede non è mai in posizione non si impone nulla perché se dentro uno non vuole la porta è chiusa io sto alla vostra porta e busso se tu non mi apri io rimango fuori non per impotenza di Dio ma perché così ha disposto e gli vuole che noi siamo responsabili di accogliere con fede Lui è la mia anima che deve volerlo non ci può essere una cosa imposta una fede vera non può essere imposta è la scelta quello che fa da chiusura spesso più che la cattiva volontà è l'ignoranza quell'ignoranza talmente stratificata che non permette di capire e di comprendere le cose di Dio quando uno vive nelle cose materiali e basta per tutta una vita fa fatica a capire le cose spirituali ce lo dice chiaramente San Paolo ma è l'esperienza che ce lo dice il miracolo che Gesù fa serve a svegliare un po' l'attenzione vedo qualcosa di straordinario una domanda me la devo fare il tipo di risposta che mi do diventa ancora mia responsabilità però ho visto un segno che viene dall'alto ho visto qualcosa di straordinario mi sono divertito ne parliamo la sera davanti al fuoco è un racconto come un altro come le favole che si raccontano e basta allora quello che ci insegna Gesù è questo molti sono quelli che vedono toccano Gesù tanti vedono gli esorcismi tanti vedono i miracoli tanti anche sono guariti ma sono pochissimi quelli che vengono guariti nell'anima e ottengono di entrare nella vita eterna perché hanno la porta del cuore chiusa e allora Gesù dice quando entra nella casa di Zairo tutti fuori questa è la strada pubblica potete prendere in giro sbeffeggiare non credere essere qui per altri motivi ma adesso faccio qualcosa che per la fanciulla per i genitori la guarisce o meglio la fa risorgere dai morti datele da mangiare non ditelo con nessuno è un fatto nostro di coloro che credono non meritano niente gli altri rimangono fuori vedranno la bambina chiaramente che uscirà ma non vuole più niente e nessuno torna a sé dunque c'è una sorta di impermeabilità o di permeabilità fra noi e Dio possiamo fare la comunione ma se la nostra anima non è aperta a Dio quella comunione non tocca la nostra anima è come siamo come quella folla che tocca Gesù ma non crede e non succede niente io posso fare la comunione l'eucaristia non avere fede non voler cambiare il mio cuore non voler seguire il Cristo io sono tale uguale a prima non cambio io e Cristo non mi cambia perché la mia porta è chiusa se apro la mia volontà a seguire il Cristo allora quel sacramento che è il contatto di Dio attraverso la materia tocca la mia materia il mio corpo ma tocca il mio spirito e mi trasforma la vita mi fa diventare diverso mi guarisce mi purifica tutto quanto dipende dunque da noi la grazia viene sulla terra ma come dice il prologo del Vangelo di Giovanni la luce è venuta nelle tenebre del mondo ma le tenebre non l'hanno accolto a coloro però che lo hanno accolto e gli ha dato il potere di diventare figli di Dio che vuol dire come Dio cioè immortali è lo stesso annuncio del Natale gli angeli ai pastori pace in terra agli uomini di buona volontà adesso c'è una traduzione che Dio ama traduzione molto difficile da sostenere perché di buona volontà è molto chiara è chiaro che Dio ama tutti ma pace vuol dire la pace passa passa a noi la sostanza di Dio passa a noi se noi abbiamo un cuore di buona volontà qual è la buona volontà rispetto a una volontà ben disposta la buona volontà è la volontà che cerca il bene e dunque come vede Dio le sue manifestazioni si inginocchia la volontà che invece segue Dio per paura dell'inferno delle punizioni o perché si deve o altre cose viene salvata ma non conosce Dio nella perfezione non è di buona volontà è una volontà trascinata più per paura che per altro però sta dentro ma per usare un'immagine che non è mia guardando il cielo stellato è come pulviscolo delle stelle sono una parte una polvere dell'immensità del puliscolo di stelle ma io sono una stella grande se con la buona volontà apro il mio cuore a Cristo perché il mio cuore la mia anima cerca il bene in quanto tale non è semplicemente una questione di opportunità questa è una cosa importantissima che qualità di anima abbiamo cerchiamo il bene o siamo solo degli opportunisti vi devo sempre chiedere tutti i giorni questa cosa amo Dio perché veramente voglio seguire Dio e il bene o semplicemente perché faccio le cose che si fanno che bisogna fare meno possibile in qualche modo tanto Dio è buono e misericordioso perdona tutti sì forse dipende dalla qualità del mio cuore noi siamo chiamati a una elezione altissima e abbiamo il potere nel nostro cuore di essere di buona volontà cioè positivamente cerchiamo il bene cerchiamo Dio e questo fa la differenza fra gli amici di Dio e quelli che sono semplicemente salvati sia lodato Gesù Cristo senza sia lodato Grazie a tutti